Cari amici, l'occasione di incontro di questa nostra puntata, di questa settimana è parlare di un service di rilevanza nazionale, ma direi anche ultranazionale, che è il service Acqua per la Vita. Che cos'è l'Acqua per la Vita? È un onlus del multidistretto 108 Italy che si interessa di aiutare le popolazioni bisognose che hanno bisogno dell'acqua ed è qui con me, gradito ospite, Franco Maisto Generale, il quale fa parte e come consiglio di amministrazione della onlus Acqua per la Vita ed è anche il delegato del governatore per questo particolare settore. Ecco Franco, incominciamo a parlare come nasce e quando nasce questo service e che rilevanza ha a livello, tu dici, potresti dire nazionale, io penso che il livello è internazionale. Ecco. Sì, Acqua per la Vita è un service di rilevanza nazionale, è nato alla sedia a Genova, è nato nel 2004, per iniziative di un gruppo di Lions. Lo scopo principale è quello della tutela dell'ambiente, in particolare quella delle risorse idriche, sia in gambe nazionale che internazionale. Questa associazione è portata avanti nel tempo la realizzazione di pozzi di acqua potabile, individuando i paesi più bisognosi nel mondo, in particolare riguardo l'Africa. Ecco, quali sarebbero, se non ricordo male, il principale paese nel quale ci si impegna è il Burkina Faso. Perché proprio il Burkina Faso? Burkina Faso perché è uno dei paesi più poveri al mondo, è un paese con un reddito pro capite poco superiore ai 1000 dollari, con un'aspettativa di vita che non supera i 60 anni e privo di sbocchi al mare e anche di risorse idriche. La nostra associazione, la Olus Acqua per la Vita, ha realizzato proprio in questo paese oltre 130 pozzi di acqua potabile, soddisfacendo nel tempo esigenze di oltre 500 mila persone. Ma voi in effetti siete anche collegati con altre associazioni benefiche che si interessano di questo? Sì, nel congresso nazionale di Genova è stato approvato da parte di questo congresso il progetto per paesi nel bisogno, ovvero il progetto Italia per paesi nel bisogno e tale progetto comprende ben 4 associazioni Olus, uno di queste è Olus Acqua per la Vita, abbiamo poi il centro italiano per la raccolta degli occhiali osati, i Lions italiani per i bambini nel bisogno e tra l'altro anche la SOSAN che è la solidarietà sanitaria. Ecco, noi della SOSAN abbiamo parlato in un nostro servizio di qualche settimana fa perché c'è l'operazione dello screening per i bambini per la scoperta anticipata dell'ambliopia per esempio. Allora, torniamo a questa benemerita Olus Acqua per la Vita, il cui presidente è? Allora, il presidente attualmente da un anno, circa da maggio dell'anno scorso è Franco Sani, è il mio saluto, però il leader di questa associazione è senza dubbio Pier Emanuelli, che è tra l'altro passi governatore come lo è anche lo stesso Franco Sani, Pier Emanuelli veramente ha dedicato massimo impegno in questa Olus andando più volte in Africa di persona e tra l'altro è riuscito anche a stipolare con l'Università di Genova un accordo, un protocollo, quindi coinvolgendo l'Università di Genova in questo service e recandosi in questi paesi, in particolare in Burkina Faso, soprattutto per cercare e di fare formazione chiaramente alle popolazioni e ridurre dasticamente le perforazioni negative, perché uno dei problemi grossi erano forse si sceglieva con casualità allora il posto per perforare esatto, quindi ben addirittura prima dell'intervento della nostra associazione ben 40-45% delle perforazioni aveva un esito negativo e quindi con costi inutili, spese buttate via Spreghi, spreghi di risorse, di energie e di denaro, oggi abbiamo azzerato questo gap Bellissimo In effetti le perforazioni grazie a questo protocollo, grazie alla formazione, grazie ai macchinari utili portati in collaborazione con l'Università di Genova si è ridotto a zero le perforazioni negative, quindi la perforazione ha esito positivo Quando poi viene individuato e costruito il pozzo? Poi a chi viene affidato? Allora ovviamente c'è inizialmente un accordo con i governi Obbligatoriamente Obbligatoriamente per avere accesso in questi paesi, per poter operare in questi paesi ci sono dei protocolli con quello che possiamo definire corrispondendo il Ministero di Agricoltura Italiana e poi ci si rivolge nella maggior parte dei casi alle missioni cattoliche, anche perché le missioni cattoliche assicurano la manutenzione di questi pozzi, che è importante chiaramente, altrimenti questi pozzi poi chiaramente avrebbero un esito negativo nel tempo senza un'adeguata manutenzione Io ricordo che ne abbiamo parlato proprio recentemente insieme, che nel 1990 c'erano ben 3 miliardi di persone senza acqua, anche per questa opera meritoria di Onlus come Acqua per la Vita e anche di altre Onlus, questo numero è diminuito? È ridotto drasticamente, si parla oggi di circa 800 milioni, dai 3 miliardi del 1990 si è sceso a un valore molto più basso, in verità questo è il problema dell'accesso all'acqua potabile, si è posto anche le Nazioni Unite e il loro obiettivo era ridurre almeno del 50% nell'arco di 15 anni il numero di persone a cui viene interdetto l'accesso all'acqua potabile. Anche perché in effetti una ricerca attenta e intelligente delle risorse idriche permette anche la creazione di posti di lavoro? Ovviamente l'acqua che possiamo dire senza ombra di dubbio è la vita, è vita, è l'animento fondamentale della vita non solo umana, anche degli animali e anche vegetali, quindi senza l'acqua il mondo sarebbe di tutt'altro tenore, l'acqua è fondamentale. L'accesso all'acqua potabile oltre chiaramente a soddisfare le esigenze umane, soddisfa le esigenze degli animali ed è un grossissimo aiuto anche all'agricoltura che chiaramente poi diventa fonte di sostentamento per le popolazioni. Come dicevamo prima in questi paesi che poi non è solo in Burkina Faso, paesi in cui opera la OLUS Acqua per la Vida, realizzata forse anche in Ruanda, acquedotti in Ruanda, addirittura anche nelle Filippine, quindi è un OLUS che opera ad ampio spettro. Ecco quindi io ho sentito, tu hai usato un termine che mi colpisce, hai usato anche la parola acquedotti, cioè non ci si limita esclusivamente al pozzo in sé per sé, ma dove è possibile si crea anche un vero e proprio acquedotto. Al momento fino ad oggi sono stati realizzati due acquedotti di diversi chilometri, sia in Tanzania sia in Ruanda. Tra l'altro in passato ci siamo preoccupati anche del trasporto dell'acqua perché come tutti noi sappiamo in questi paesi le persone sono costrette a trasportare sulle proprie spalle o in testa addirittura il recipiente con l'acqua. Una delle cose che la OLUS Acqua per la Vida ha fornito a diversi villaggi si chiamavano rototaniche, cioè dei contenitori che venivano tirati con un'asta e quindi facilitavano anche il trasporto dell'acqua dal pozzo, dalla fonte dell'acqua alla propria abitazione. Quindi anche questo è importante. Quindi in fluida anche in questo, la nostra associazione anche in questo ha dato un grosso contributo ad alleviare le sofferenze della popolazione, di queste popolazioni. Siccome ho il piacere di avere con me Franco Maisto così ben addentro dei problemi dell'acqua, allora una domanda da italiano, ma Franco anche in Italia abbiamo qualche problema? Certamente sì, forse ce ne abbiamo parecchi di problemi, purtroppo anche in Italia ci sono diverse località, zone, aree che soffrono di carenza idrica. E questo è un problema che secondo me dovremmo affrontare, forse non tanto come associazione Lions, ma proprio da parte delle istituzioni. E' arcinoto il fatto che abbiamo delle condutture che hanno delle grosse perdite, quindi si spreghi sia perché gli acquedotti che sono datati non ricevano magari una manutenzione adeguata. Come pure secondo me andrebbe sensibilizzata, anzi va sensibilizzata la popolazione anche nell'uso parsimonioso dell'acqua e non evitare spray. Teniamo presente che nel 2013 c'è stato un convegno a Bonn di circa 500 esperti idrici di tutto il mondo che hanno ipotizzato uno scenario piuttosto preoccupante per l'umanità, cioè secondo questi esperti nell'arco di due generazioni la metà della popolazione mondiale potrebbe avere grossi problemi di accesso all'acqua potabile. Quindi come è giusto che sia, prevenire è meglio che curare, secondo me l'istituzione in testa, in primis, ma anche tutti quanti noi, dal primo all'ultimo dei cittadini, dovremmo preoccupare di non sprecare questa cosa preziosa. Noi parliamo sempre della preziosità del petrolio, del diamante perché la vera ricchezza è l'acqua. Noi in passato, soprattutto in passato avevamo forse un po' fra virgolette di invidia verso i cosiddetti paesi petroliferi, grazie al petrolio ci sono arricchili, ma grazie all'acqua si vive. Quindi secondo me è un valore molto, è una cosa da curare veramente da parte di tutti, tutti quanti noi ci dobbiamo impegnare a che questo elemento fondamentale per la vita non venga mai a mancare. Chiunque di noi si è trovato almeno una volta nella vita ad aprire il rubinetto e mancava l'acqua. Si è sentito perso, si è andato in crisi. Immaginiamoci allora queste popolazioni africane, immaginiamo che cosa darebbero per un goccio d'acqua. E allora ecco la Onlus, leggevo tra le note che l'Onlus, Acqua per la vita, ha mandato in preparazione di questo incontro televisivo che il Burkina Faso ha concesso il consolato onorario per la Liguria al past governatore Piero Manuelli. Ecco, è il riservo interpretato nel vero senso della parola, è vero Franco? Io sì certo, penso che Piero Manuelli meriti veramente tutto l'apprezzamento della nostra associazione, ovviamente anche i tanti soci di questa associazione che si impegnano in questo settore merito un applauso, ma Piero Manuelli in primis perché ci ha creduto, perché si è impegnato, continua a impegnarsi. Tra l'altro è stato nominato come delegato multidestrittuale un nuovo comitato, che è un comitato europeo, che si interessa? Si interessa e della possibilità di accesso all'acqua, quindi di realizzazione di pozzi e del problema dell'igiene, anche quello fondamentale, sempre però collegato con l'acqua, diciamo la verità, e poi anche della formazione della popolazione. Vorrei spendere due parole a riguardo di questo problema dell'igiene. La mancanza dell'acqua produce gravi danni. Noi abbiamo avuto in passato nei villaggi in cui mancava l'acqua un grosso indice di mortalità infantile, proprio perché la mancanza di acqua crea problemi gastroenterici, crea problemi di igiene e quindi in molti casi purtroppo anche il decesso, addirittura in tenere età. Quindi l'acqua è utilissima e fondamentale anche da questo punto di vista. Ecco perché il nome è sintomatico, acqua per la vita, per la vita. Allora in conclusione di questa nostra ghiacchierata, una domanda Franco, che cosa in aggiunta a questa benemerita Ollus inserita ormai a livello eterno perché è un service che è permanente nelle attività dei Lions, però ogni singolo club, che cosa può fare di più per aiutare questa Ollus? Io in verità dico, però ho grossa soddisfazione oggi nel non constatare da parte del nostro distretto, che comprende come tutti sanno tre regioni, la Campania della Calabria e la Basilicata, una maggiore sensibilità. Io mi sono interessato di questa problematica da diversi anni a questa parte e notavo in passato, parlo di oltre una decina di anni fa, una certa reluttanza sul problema dell'acqua e sul discorso perché ci preoccupiamo di paesi di altri continenti e non del nostro. Oggi devo dire, venendo con grande soddisfazione, che c'è una sensibilità notevole. Molti club partecipano a questo service, molti club si attivano con iniziative per procurarsi contributi che poi inviano alla Ollus che a sua volta li utilizza per la realizzazione di queste opere che abbiamo detto in precedenza. Quindi per me l'invito che faccio è un'ulteriore sensibilizzazione da parte di tutti i Lions su questa problematica. L'acqua è un bene indispensabile e quindi attiviamoci tutti. Basta vedere le fotografie che girano in questa nostra trasmissione quando viene consegnato un pozzo o qualcosa che riguarda l'acqua a queste popolazioni, basta vedere le facce contente delle persone per dire ho fatto qualcosa di buono. Ecco e con questo auspicio e anche con questo invito che facciamo ai club di tener conto nella loro progettualità anche di aiutare la Ollus Acqua per la Vita che Elio Fusco vi saluta Franco Maes. Grazie, grazie, buonasera.